è tutto pronto qua per la seconda partita di under league tra ciuccio boys per l'inps dopo la prima partita che ha visto vincenti e scimmialen contro il sesto assenzio questa volta toccherà a beverly imps contro il ciccio boys attenzione subito il gol di di pierno pronti via 1 a 0 pronti via subito al gol di di pierno e che gran gol nemmeno è tempo di introdurre la partita che subito c'è il vantaggio dei ciuccio boys con di pierno come dicevo alla fine del termine della partita tra scimmialen sesto assenzio che ha visto vincitori quindi ha portato a casa i primi tre punti liberi e scimmialen ed è oggi come andrà questa prima giornata match delle ore 5 andiamo quindi a leggere a leggere le formazioni partiamo prima dai beverly impuso con fusco in porta che doveva partire come difensore ma è stato un cambio all'ultimo fusco in porta telese russo ciccarelli quaglietta pesa minichini e desio attenzione intanto subito caputo caputo la parata di fusco ancora caputo partito forte il ciccio boys traditi è caputo entrambi sul pallone quaglietta palla fuori sono partiti forte ragazzi il ciccio boys oggi mentre invece andiamo a leggere le formazioni per il ciccio boys ancora caputo passa si gira lo chiudono in quattro tesi o minichini andiamo a leggere le formazioni sgueglia in porta fiscale ambrosino caputo da emena di pierno traditi federico sacco e salvati russo inichini chiude in testa ciccarelli minichini di tacco caputo su di lui non molla pesa telese in aria attenzione sgueglia arriva ciccarelli mena chiude ma ciccarelli con le mani di testa palla fuori ci ha provato desio pronto a battere ambrosino la palla caputo che appoggia non c'è nessuno dei suoi traditi perde il pallone minichini approfitta ambrosino chiude ancora minichini ma ciccarelli attenzione di testa la palla arriva sguiglia telese pesa ancora pesa ambrosino ciccarelli salvati non controlla ciccarelli si e si porta a casa questa rimessa russo ancora russo valunga ambrosino controlla desio ancora la palla arriva acquaglietta c'è fallo è pronto minichini pronto a battere questa punizione a minichini in porta sguiglia la parata di sguiglia va russo attenzione la palla arriva nella e può uscire di scale velocissimo del pallone però guaglietta c'è fallo pronto a telese di testa palla fuori c'è la provata minichini è pronto ambrosino di scale perde il pallone ma la palla non esce sguiglia va allunga attenzione c'è fallo fusco guarda telese ancora telese guaglietta controlla guaglietta caputo ottimo fiscale per di pierno ancora fiscale in aria attenzione palla fuori ciccarelli avanzare caputo recupera traditi minichini passa attenzione con un fallo no si gioca sguiglia va con le mani fusco vada guaglietta aggancia e si gira desio attenzione a terra sarà rimessa dal fondo pronto ambrosino va allunga di pierno la mette fuori va con le mani telese russo gira da ciccarelli ancora ciccarelli va da pesa pesa passa ancora passa desio che calcia federico su di lui attenzione la palla rimane là desio ambrosino e può partire di pierno fusco chiude di tacco la palla è fuori va bene va bene ci sta ci sta va telese desio attenzione in aria traditi caputo ancora caputo ciccarelli di testa minichini può controllare minichini in mezzo desio sveglia caputo caputo contro guaglietta non molla nei due ottimo scontro guaglietta calcia palla fuori pronto ambrosino a battere subito fiscale ancora d'ambrosino la palla fiscale vada di pierno minichini un po' sbilanciato qua il suo boys minichini in mezzo desio che calcia cosa si mangia qua desio grande occasione sprecata il beverly inps grandissima occasione qua sprecata caputo perde il pallone guaglietta passa minichini ancora perde desio minichini può avanzare in due a su di lui fiscale chiude e mette fuori telese minichini calcia palla deviata sgueglia si guarda intorno sgueglia e va a lunga da caputo ancora caputo attenzione in porta fusco voglia provare laureo goal qua caputo minichini minichini ciccarelli si gira da telese sbaglia l'appoggio rimessa per i ciccio boys con federico cambia il tiratore va ambrosino con le mani minichini di testa di pierno pallone esce cambio rimessa per i beverly l'imps è pronto ciccarelli con le mani lunga attenzione pallone quaglietta da mena telese quaglietta controlla di testa tra diti su di lui controlla quaglietta palla fuori posizione attenzione sgueglia esce due volte va sul pallone e vada di pierno mena pesa federico su di lui attenzione palla fuori finichini è pronto basso attenzione in porta pesa palla fuori è pronto ambrosino bassa attenzione quaglietta attenzione messo giù da caputo c'è fallo è pronta a battere quaglietta posizione molto invitante è pronto quaglietta bassa attenzione calcio d'angolo qual è stato deviato pronto a battere minichini vai in aria chiude salvati quaglietta vada pesa ancora pesa che calcia palla fuori ambrosino va subito lunga a cercare federico federico contro russo che lo chiude rimessa da fusco si gira da telese ancora telese quaglietta quaglietta si gira centralmente ancora quaglietta dei mena chiude salvati vada caputo c'è di pierna attenzione fusco ciccarelli minichini trova ciccarelli ancora però chiude traditi due volte però minichini passa ancora minichini con numero in aria ciccarelli calcia palla fuori pronta a battere ambrosino presino vola andare lunga attenzione caputo svigola russo caputo con una semi rovesciata la palla nettamente fuori su un problema qua per per fusco che va lunga quaglietta ancora quaglietta pesa vada telese che non controlla palla fuori salvati ambrosino attenzione ruba qua De Sio l'ha voluto fortemente questo gol De Sio ruba il pallone e con un destro calcia 1 a 1 gran gol di De Sio di Pierno vuole riprovarci palla di poco fuori sembra un po' un gol alla cavara quello di De Sio in qualche maniera ruba il pallone al difensore poi calcia e c'è il gol pesa intanto Ciccarelli sbaglia l'aggancio poi recupera pesa attenzione sgueglia due volte poi va lunga russo di testa Federico non c'è tocco rimessa per il Beverly Imps Ciccarelli con le mani Minichini si gira Ciccarelli la palla rimane là appoggia Quaglietta col sinistro calcio d'angolo Minichini da Quaglietta tiro attenzione sbaglia qua Fusco Caputo e c'è di nuovo il vantaggio dei Ciccio Boys con Caputo ma brutta indecisione difensiva e Caputo ne approfitta su Ciccio Boys due a vantaggio quindi 2 a 1 Telese Quaglietta De Sio appoggia pesa che va da Ciccarelli attenzione la palla arriva di nuovo a De Sio Federico squeglia chiude Ambrosino De Mena Caputo appoggia traditi che può avanzare ma lo chiude Ciccarelli ancora Ciccarelli Di Pierno va ancora Di Pierno lo chiude Russo rimessa ancora per Ciccio Boys pronto con le mani salvati va a lunga la palla arriva di Pierno Fusco ancora Caputo fuori smanaccia Fusco Minichino De Sio si gira ancora Minichino attenzione De Mena chiude i Ciccio Boys salvati passa due volte ma non stupesa poi attenzione la palla che mi passa con la testa messa per i Beverly Hills c'è una per i Ciccio Boys Caputo Quaglietta salvati recupera Caputo attenzione pallafu Caputo con le mani salvati ancora salvati perde il tempo e anche il pallone rimessa per i Beverly Hills attenzione la palla passa Minichino Minichino in porta per il pareggio 2 a 2 Minichino grande lancio la palla arriva Minichino che non perdona è pronto di Pierno ancora in porta pallafu c'è stata deviazione calcio d'angolo fiscale pronto a battere a fiscale più da Minichino Caputo aggredito da tesi con un fallo pronto Caputo ma importa la traiettoria Quaglietta ancora Quaglietta non perde il pallone Quaglietta con un fallo attenzione fuori pronto Ambrosino a battere stato di 2 a 2 Ambrosino lunga Ciccarelli chiude rimessa per i Ciccio Boys traditi con le mani Di Pierno controlla Di Pierno passa ancora Di Pierno ma non riesce a tenere il pallone in campo rimessa per i Beverly Imps Ciccarelli la passa Minichino Ambrosino chiude ancora Minichino non molla pesa Quaglietta chiude fiscale con le mani Quaglietta ancora Ambrosino Rimessa rimessa per i Beverly Imps Desio ancora Ambrosino Russo ti mette subito in avanti Ambrosino chiude C'è Telese che calcia Minichino ancora ancora in aria Ciccarelli palla fuori pronta a battere ancora Ambrosino parte lunga la palla a Fusco Ciccarelli pesa ancora pesa Ciccarelli Minichino sbaglia non aggancia rimessa da Cuccio Boys Ambrosino è pronto a battere con le mani Minichino controlla ancora fuori ancora con le mani Caputo controlla Caputo chiudono in due la palla ancora a lui però non passa su Ciccarelli Di Pierno sbaglia l'aggancio con le mani Desio ancora non c'è nessuno in mezzo Desio entra in aria Desio in mezzo per Quaglietta che non va e finisce qua il primo tempo di una partita molto accesa risultato in parità tutto pronto per questo secondo tempo partita tra Ciccio Boys e Beverly Inps risultato di 2 a 2 molto equilibrata un po' si inizia entra salvati parte parte Desio tenta a calciare in porta copisce la barriera Quaglietta ancora Quaglietta lo chiude Caputo si gira e va da Fiscale che è una prateria davanti Fiscale fuori Russo può avanzare Russo Desio attenzione la valla Caputo lo chiudo in 3 Russo Minichino con un numero ancora Minichino appoggia Desio Ciccarelli Quaglietta per Minichino di testa palla fuori pronto subito Ambrosino pallunga Ciccarelli Desio aspetta un po' a calciare lo chiudono poi Quaglietta pesa vada Fusco Fusco stato un cambio attenzione subito Fusco stato un cambio in porta porta ci va Telese in mezzo chiude sgueglia dicevo cambio tra i pali quindi che importa adesso va Telese invece che Fusco va Ambrosino pronto lunga di testa Fusco ancora Fusco Caputo chiude controlla Russo lo aggredisce Caputo ancora in mezzo dove c'è Fiscale lo chiudono ma la passa dove c'è però Minichino portata adesso Ciccarelli Desio controllo così e così ancora la palla Minichino che calcia fuori è pronta Ambrosino Federico con la punta la palla arriva a Ciccarelli però traditi la palla non esce desio ancora col sinistro palla fuori Ambrosino chiama tutti in avanti pallunga di Pirno ancora di Pirno non passa lo chiudono in due pronto Russo Minichino Russo la pallaria nella traditi ancora Russo però posizione insolita per Russo di Pirno Ciccarelli calcia pallone arriva a Desio che appoggia per Quaglietta fiscale c'è stato fallo però prima c'è stato fallo prima per Iciuccio Bois va di Pirno forte palla fuori Fusco Russo valla non passa salvati Telese vada Ciccarelli pesa ancora pesa dove non c'è nessuno sguiglia contro la fuori rimessa per Iciuccio Bois va lunga sbaglia l'aggancio rimessa Beverly Minichino traditi chiude ancora Minichino Ciccarelli attenzione in due fiscale non va ancora Ciccarelli Minichino per Ciccarelli in aria appoggia male su Quaglietta che non controlla valla fuori salvati con le mani le mani salvati vai all'aggancio Minichino aggancia poi calcia la parata di Sgueglia ancora Ciccarelli non controlla valla fuori ottima risposta di Sgueglia si fa trovare pronto pronto Ambrosino a battere chiamo ancora tutti in avanti va lunga la palla passa chiude Fusco Quaglietta perde un po' di tempo appoggia ancora Fusco che calcia fuori salvati con le mani di Pierno la palla a Telese che cambia idea non va sul pallone Lusso deviata Fusco ancora deviata rimessa ancora per i ragazzi in casacca gialla De Sio sbaglia l'aggancio Messa Ciccio Boys pronto Federico Caputo di ripeto Ambrosino ancora Caputo passa Caputo poi vai in avanti pesa si gira e va da Telese che va in avanti attenzione può approfittarne ora ancora Quaglietta sbaglia l'aggancio la palla però ancora lui in aria di testa sgueglia la fa sua in due tempi e vai in avanti Di Pierno sbaglia l'aggancio Quaglietta può partire lo chiude traditi Federico sbaglia Sciccarelli Minichino palla esce messa con le mani per i Ciccio Boys pronto Ambrosino con le mani Sciccarelli ancora Ambrosino in avanti Fiscale la palla Caputo allunga su Salvati ancora Salvati si gira lo chiude Quaglietta rimessa ancora per i Ciccio Boys Caputo ancora Federico con la punta attenzione con i pugni Telese Quaglietta ancora Quaglietta due volte De Sio Caputo chiude Ambrosino in avanti dove c'è Fiscale in aria per Di Pierno chiude chiude Pesa se la calcio se la calcio d'angolo è pronto Fiscale in aria attenzione di testa aiuto Ciccarelli Quaglietta perde Sio che sbaglia l'aggancio poi recupera Quaglietta con un numero ancora Quaglietta si gira e calcia la balla rimane là fuori clamoroso non è gol ma rimane la giocata bella di di Quaglietta ancora Quaglietta si gira per riprovarci vada invece da Minichino controlla mischia pesa traditi attenzione palla fuori Ambrosino pronta a battere lunga Minichino pesa vada Desio che calcia sgueglia Ambrosino vai in avanti si arrabbia più vai Desi vai Busco Desio pesa vada Ciccarelli punta e parte sbaglia l'appoggio chiude Ambrosino sono entrato i cambi pesa bassa la palla arriva Quaglietta guardate sì o no Quaglietta messa per i gioccio boys va salvati un po' procedere ora può andare di pierno di petto ancora di pierno vai all'aggancio per attenzione ciccarelli due volte minichino minichino può partire sbaglia però l'appoggio per Desio palla fuori parte subito di pierno pallo di mano minichino sbaglia sbaglia Ambrosino chiude russo svirgola messa per i gioccio boys fiscale vai all'aggancio però non molla te lese calcio a lungo ancora rimessa per i gioccio boys con salvati vada Ambrosino di petto e va ancora da salvati Quaglietta recupera traditi pesa vada ciccarelli con lunga la palla esce Ambrosino con le mani Quaglietta ancora Quaglietta in mezzo non ci arriva minichino palla fuori pronto ancora a battere Ambrosino di pierno caputo in due su di lui caputo non molla perde la rimessa fondo pronto a te lese in avanti attenzione sgueglia perde il pallone sgueglia attenzione desio palla non esce c'è l'arbitro che la palla era fuori invece pesa ancora ancora pesa col sinistro palla fuori Ambrosino lunga fusco fusco attenzione minichino quaglietta ciccarelli ancora ciccarelli sulla fascia in aria dove c'è minichino palla fuori adesso spingono i ragazzi dei beverly inps appena fanno adesso ci c'ho boys con un primo tempo bello stanno un po' soffrendo adesso il pressing dei beverly inps pronto a salvati con le mani lunga pesa di testa per ciccarelli ancora ciccarelli vuole calciare attenzione in porta sguiglia la blocca e va da di pirno de mena perde il pallone desio ancora in mezzo per quaglietta la paratona di sguiglia centrale pesa ancora in mezzo caputo può partire sbaglia l'aggancio c'è russo che interrompe il contropiede dei ciccio boys con le mani desio rimessa ciccarelli con le mani di testa ancora sguiglia fusco allunga ciccarelli pallafuori è pronto ambrosino con le mani per traditi ancora traditi basta traditi poi la palla ha caputo un po' isolato in questo secondo tempo caputo fa fallo pronto russo chiama tutti in avanti russo pronto a battere e va lunga desio si gira calcia detto mia ha detto mia quindi c'è fallo per i ciccio boys boys ambrosino lunga di pierno c'è fiscale in aria calcio d'angolo è pronto fiscale che va ciccarelli di testa federico la palla rimane là può partire ciccarelli in mezzo attenzione la palla per la giocata di guaglietta deviata fallo fallo in attacco pronto ambrosino parte di pierno attenzione per la doppietta di di pierno è il vantaggio dei ciccio boys gran gol di di pierno ancora vantaggio per i ciccio boys 3 a 2 mentre stavano facendo un po' soffrire il pressing dei beverly imps su un colcio piazzato riescono a portarsi in vantaggio pesa per fusco col sinistro deviata attenzione la palla rimane là sguiglia ancora fusco palla fuori ma che occasione ragazzi ciccarelli va con le mani attenzione fusco la palla rimane là tesi minichino fiscale salva sulla linea ma che partita ora ragazzi incredibile calcio d'angolo in aria di testa ciccarelli sgueglia guarda caputo lo serve ora palla fuori va fusco con le mani attenzione minichino in aria chiude ambrosino pesa attenzione fallo fatto fallo fatto fallo di pierno va appesa russo vuole calciare palla fuori è pronto ambrosino va allunga federico di petto allunga caputo attenzione fiscale non molla telese blocca fusco palla che va fuori russo per pesa che mette giù si guarda intorno i pierno su di lui con le mani minichino in aria attenzione ciccarelli valla fuori pronto ambrosino a battere lunga telese blocca guaghetta ciccarelli federico su di lui ciccarelli non molla ancora raditi ciccarelli può avanzare ciccarelli in mezzo desio la chiusura grandissima chiusura di fiscale che partita che sta facendo fiscale non molla in mezzo questo calcio d'angolo palla fuori è pronto l'ambrosino di pierno calcia telese con le mani minichino attenzione ancora minichino aggancia poi voleva passare acquaghetta perde un po' di tempo e c'è la chiusura fusco in mezzo di testa tra di di chiude di pierno per caputo può partire adesso i ciccio boys con un fallo caputo vuole battere subito ambrosino con la testa attenzione fusco di pierno la palla fusco la prende così ancora desio quaghetta ciccarelli vuole calciare la parata per il pareggio che partita ragazzi tre minuti di recupero pronto in porta ancora due volte pesa di pierna in scivolata ciccarelli ancora in aria federico vai in avanti pesa vuole calciare la rimontano i berlin con pesa 4 a 3 che partita che rimonta è pronto di pierno ancora barriera quaghetta si gira quaghetta lo chiude salvati fusco fuori ambrosino traditi ciccarelli su di lui desio sbaglia la gancia ma non molla salvati chiude fusco un po' di testa attenzione desio ambrosino salvati così e così quaghetta sgueglia vuole farlo così quaghetta con le mani la palla arriva ciccarelli fuori pronto a battere ambrosino lunga pesa di testa desio un po' adesso sbilanciato ciccio boys minichino vada qua quaghetta appoggio per desio che vuole calciare lo chiude traditi ancora quaghetta calcio in porta adegato c'è salvati che bene avanti quaghetta recupera ancora quaghetta col destro e ci riesce a farlo quaghetta 5 a 3 l'esultanza di quaghetta e finisce qua vincono in rimonta i beverly imps e finisce qua la partita tra tra beverly imps e ciuccio boys con la vittoria in rimonta per i beverly imps partiamo prima da di pierno allora di pierno quello che vi è imbarcato oggi diciamo è un po' il fiato sì sì assolutamente visto che avete iniziato subito con un gol poi avete un po' sofferto questo questo pressing si anche perché non ci conosciamo bene tutti è la prima partita insieme quindi ci vorrà molto tempo comunque per trovare l'intesa e tutto il resto però sono soddisfatto da una parte dall'altra parte dovevamo fare meglio in difesa e avevo preso 3 gol in 5 minuti dedico questo gol alla mia ragazza serena pure si dice mi fa fare 5 però ci siamo bene ok grazie di pierno andiamo invece da da fusco che che è successo improvvisamente parti da portiere poi dopo vai in avanti era già tutto in programma e cambio levando l'errore il brutto errore nel primo tempo qualche errore di troppo dietro un po' lui sul terzo un po' io un pochino sul primo soprattutto sul secondo però siamo partiti benissimo abbiamo credo dominato la partita mangiandoci tanti gol l'anno scorso la prima ne prendemmo 6 quest'anno ne abbiamo fatti 5 quindi c'è stato un grosso progresso ok grazie ragazzi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti